Versate 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Adesso tagliate uno spicchio d'aglio. Se volete potete mettere l'aglio intero e poi toglierlo in un secondo momento. Oppure se vi piace l'aglio lo tagliate a pezzetti. Versiamo anche i nostri straccetti di pollo. Versate il succo di un limone. Un cucchiaino raso di sale. Pepe nero macinato. Con una sfatola amalgamate bene il tutto. Fiamma medio-bassa. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere il tutto per 5 minuti. Nel frattempo passiamo alle nostre melanzane. Potete utilizzare o una melanzana grande oppure due piccole. Lavate bene sotto l'acqua corrente la vostra melanzana. Bene, a questo punto tagliate a cubetti le melanzane. Prima tagliamo delle strisce, cioè le tagliamo a fette. Tagliate a fette le nostre melanzane, adesso le possiamo tagliare a cubetti. Quindi prima la tagliate a strisce e poi giro la melanzana e la tagliamo a cubetti. Le facciamo così per il resto. Nel frattempo sono passati 5 minuti. Amalgamate bene il tutto. Quindi giriamo il nostro pollo. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 5 minuti. Adesso prendete un'altra padella antiaderente. Mettiamo un po' d'olio extravergine di oliva. Sempre una fiamma medio-bassa facciamo scaldare bene l'olio. Quando l'olio risulterà ben caldo versiamo le nostre melanzane. Ok, adesso mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per 5 minuti. Passiamo nuovamente al nostro petto di pollo. Sono passati 5 minuti. Amalgamate bene, quindi giriamo il nostro petto di pollo. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere altri 5 minuti. Passati i primi 5 minuti delle nostre melanzane, mettiamo un cucchiaino circa di sale. Amalgamate bene il tutto. Versate mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Come un'unità di misura uso un bicchiere di plastica. Mezzo bicchiere. Versate anche 2 cucchiai di zucchero bianco. Mi raccomando, adesso amalgamate bene il tutto. Date una bella mescolata. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 5 minuti. Passiamo al pollo. Amalgamate bene il tutto. Mettiamo nuovamente il coperchio e facciamo cuocere per altri 5 minuti. Questa è una cottura che va seguita a 5 minuti. Quindi passati 5 minuti, amalgamate bene le vostre melanzane. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 5 minuti. Stessa cosa per il nostro petto di pollo che cammina in pari passo con le melanzane. Quindi passati 5 minuti, giriamo il nostro petto di pollo. Comincia ad essere più dorato. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere altri 5 minuti. Passati nuovamente 5 minuti, le nostre melanzane sono quasi pronte. Amalgamate bene il tutto. Adesso potete versare i vostri petto di pollo con le melanzane. Ho versato come vedete i petto di pollo. Amalgamate bene i petto di pollo con le melanzane. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per gli ultimi 5 minuti. Passati 5 minuti, possiamo spegnere la fiamma, il nostro pollo in padella con le melanzane. È pronto! E voilà, il nostro pollo in padella con le melanzane è pronto. Credetemi, è un piatto gustoso e saporito. È buonissimo! Ovviamente più pollo mettete, più buono diventa. Con le dosi più o meno, io vi ho dato le dosi per due persone. Raddoppiate le dosi se lo dovete preparare per più persone. Lavate benissimo le vostre melanzane e poi le tagliate a cubetti. Una volta tagliate le mie melanzane a cubetti, prendo una pentola, la riempio d'acqua, metto un cucchiaino di sale e metto dentro anche le mie melanzane. Le faccio cuocere per circa 30 minuti o comunque fino a quando risultano cotte. Quindi mettete la pentola sopra, dopo 30 minuti sono pronte solitamente. Ogni 10 minuti più o meno, con un cucchiaio, con una spatola, dovete immergere le melanzane che si trovano in superficie e portarli sul fondo della vostra pentola. Quindi date una bella mescolata come vedete qui in video. Bene, passato sul fuoco, coperchio, 30 minuti e le nostre melanzane sono pronte. Quindi trascosso il tempo necessario, io solitamente ogni 10 minuti alzo il coperchio e do una bella mescolata comunque. Trascosso il tempo necessario, metto le mie melanzane in un colapasta e poi metto il colapasta sopra la mia pentola. E lascio riposare le mie melanzane finquanto diventano nuovamente fredde, quindi a temperatura ambiente. Solitamente 2 ore, 2 ore e mezza le mie melanzane sono pronte. Quindi quando le mie melanzane sono ritornate completamente fredde, prendete una ciotola, versate un uovo, un cucchiaino di sale e amalgamate bene il tutto con la vostra forchetta. Bene, adesso versate 3 cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato. Se volete potete utilizzare anche il pecorino, questo dipende dai vostri gusti. Io vi consiglio il parmigiano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, potete tagliare il vostro ciuffo di prezzemolo finemente con un coltello oppure, come faccio io, sminuzzate con le mani il vostro ciuffo di prezzemolo. Amalgamate bene il tutto, versate proprio un pizzico di pepe nero macinato e continuate ad amalgamare bene il tutto. Prendete un piatto, riprendete il colapasta con le melanzane e questa volta dovete letteralmente strizzare le vostre melanzane perché devono perdere ancora acqua di cottura. Bene, dopo aver strizzato tutte le vostre melanzane con una forchetta, amalgamate bene il tutto. Quindi amalgamate le melanzane con il vostro composto. Adesso utilizzerò un bicchiere di pan grattato. Ne verso metà, vado ad amalgamare bene il tutto e poi verso l'altra metà di pan grattato. Quindi in totale utilizzo un bicchiere di pan grattato. La quantità del pan grattato può dipendere dalla qualità delle vostre melanzane. Quindi se vedete che il vostro composto non è ancora omogeneo, potete aggiungere uno o due cucchiai in più di pan grattato. Molto dipende dalla qualità delle vostre melanzane. Come vedete dovete ottenere questo composto che potete lavorare benissimo con le mani. Dovete lavorare con questi movimenti. Quindi lavorate, schiacciate con le mani per compattare bene la vostra polpetta. Questo è importantissimo. Guardate il movimento delle mie mani perché dovete seguire questo movimento. Davvero ci vuole pochissimo tempo per creare queste piccole delizie. Come vedete questo è il movimento che dovete realizzare. Poi vado a schiacciare letteralmente il mio composto, metto il formaggio dentro e poi realizzo la classica pallina per creare la polpetta di melanzane. Vado a combattare sempre con lo stesso movimento delle mani perché è l'unico movimento che mi permette di realizzare una pallina che è poi in bella soda e che non si apre in cottura. Questo è fondamentale. Immergete la vostra palla, la vostra polpetta di melanzane nel pan grattato e poi la mettete in un piatto con carta forno e fate così per il resto del vostro impasto. Come vedete è davvero facilissimo realizzare queste polpette di melanzane. Io poi faccio riposare le mie polpette di melanzane in frigo per circa due ore. Quindi ricoprite con pellicole il vostro piatto con le polpette di melanzane e le lasciamo riposare lì per due ore. Dopo due ore sono pronte per essere fritte. In un pentolino versate abbondante olio per friggere. L'olio deve ricoprire quasi interamente la superficie delle vostre polpette di melanzane. Quindi se non le ricopro tutte, quasi interamente. Scegliete un po' voi. O mettete più olio e le ricoprite tutte, quindi avete una cottura ottimale, oppure fate come ho fatto io e poi girate e rigirate le melanzane. Le vostre polpette di melanzane, praticamente la stessa cosa. L'importante è che ricopre quasi tutta la superficie. Bene, preparate un piatto con carta assorbente per accogliere le vostre golosissime polpette di melanzane e poi le servite in un piatto. Ragazzi, credetemi, queste polpette di melanzane sono buonissime. Provatele anche voi. Le melanzane grigliate di Cartisia. Vediamo subito di cosa avete bisogno per realizzare le melanzane grigliate. 850 grammi di melanzane, aglio, sale, pepe nero macinato, prezzemolo tritato, questo è suggerato, ovviamente voi potete utilizzare prezzemolo fresco. Olio extravergine di oliva. Lavate bene le vostre melanzane e tagliatele a fette. Le fette non devono essere troppo spesse, meno di un centimetro. Mi raccomando, non devono essere neanche troppo sottili. Bene, ho tagliato le mie melanzane. Adesso possiamo grigliare le nostre melanzane. Mettiamo un po' di sale. Bene, ho grigliato le mie melanzane. Adesso vi servirà un po' d'olio extravergine di oliva. 2 spicchi d'aglio, sale, mezzo cucchiaino scarso di sale, prezzemolo tritato, pepe nero macinato. Quindi metto anche il pepe. E adesso amalgamate bene i vostri ingredienti. Se volete potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Lasciate insaporire il tutto per circa 20 minuti. Se non vi piacciono gli spicchi d'aglio, li togliete prima di mettere le melanzane. Diciamo il tempo che prende il sapore. Adesso è il momento di tuffare le vostre melanzane in questa squisitezza. Questa ricetta è davvero facile, veloce e buonissima. Le potete utilizzare davvero in tantissime ricette, anche nella parmigiana. Un contorno veloce e saporito. Ho realizzato così 18 fette di melanzane grigliate. Che sono un chilo di melanzane. Tagliate le melanzane a metà, poi tagliate le melanzane a striscia, girate la melanzane e la tagliate nuovamente a metà. Quindi abbiamo tante strisce di melanzane. Prendete una pentola, la riempite d'acqua e mettete tutte e due le melanzane tagliate. Quindi tutto il chilo di melanzane tagliate. E poi mettiamo dentro la nostra pentola piena d'acqua un cucchiaino di sale. Amalgamate bene un cucchiaino di sale con le vostre melanzane. Quindi immergete le vostre melanzane con il sale. Passiamo ai fornelli con una fiamma media. Bene, adesso mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per 40-42 minuti al massimo. E dopo ogni 10 minuti noi solleviamo il coperchio e fate come vedete in video. Affondate le vostre melanzane con la forchetta in modo che le melanzane di sopra passano sotto e le melanzane che si trovano sotto passano in superficie. Quindi per dare una cottura omogenea. Quindi dopo 40 minuti di cottura le nostre melanzane sono pronte. Prendete un colapasta, mettete le vostre melanzane e poi rimettete il colapasta sopra la vostra pentola, così come vedete. E lasciate raffreddare completamente le vostre melanzane. Devono essere fredde. Nel frattempo le melanzane perderanno tutta l'acqua di cottura. Prendete una ciotola, versate due uova e un cucchiaino di sale. Amalgamate benissimo con la vostra frusta, energicamente. Bene, a questo punto utilizzerò un mazzetto di prezzemolo. Potete tritare il prezzemolo con il coltello oppure lo potete sminuzzare con le vostre mani. Utilizzerò tre cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato. Amalgamate anche il parmigiano grattugiato, questa volta con la forchetta. Quindi amalgamiamo bene il tutto e versate anche il pepe nero macinato. Amalgamate bene il tutto. Adesso è il momento di versare le nostre melanzane. Le melanzane si sono raffreddate completamente, come vedete hanno perso l'acqua di cottura. Adesso possiamo strizzare ulteriormente le nostre melanzane. Come vedete perdono ancora acqua. Strizzatele bene e versatele nella ciotola. Con una forchetta amalgamate bene tutto. Una volta fatto questo vi serviranno quattro fette di pancarra integrale. Sbriciolate bene il vostro pancarra integrale con le mani, così grossolanamente. Ovviamente non devono esserci pezzi troppo grandi, ma neanche troppo piccoli. Bene, dopo aver sminuzzato bene il nostro pancarra integrale, amalgamate bene il tutto. Prima con una forchetta e poi potete amalgamare il tutto anche con le vostre mani. Questo serve per amalgamare il pancarra e quindi per dare l'opportunità al pancarra di integrarsi bene con le nostre melanzane. Mi raccomando, dovete compattare bene il vostro composto. Adesso vi servirà un bicchiere di semola rimacinata di grano duro, che corrisponde comunque a 100 g di semola rimacinata di grano duro. Versate la vostra semola nella ciotola e amalgamate benissimo il vostro composto, quindi fate assorbire bene la semola con il vostro composto. Ho versato un pizzico di pepe nero macinato, amalgamate bene il tutto, preparate una padella antiaderente e versate abbondante olio per friggere. L'olio deve ricoprire metà delle vostre frittelle. Le frittelle non devono essere immerse completamente nell'olio. Bene, con una fiamma medio-bassa. Mi raccomando, la fiamma non deve essere troppo bassa, se no le vostre frittelle risultano untuosa e né troppo alta, se no le vostre frittelle si bruciano. Quindi una fiamma medio-bassa. Realizzo le mie frittelle con due cucchiai. Adesso possiamo friggere le nostre frittelle. Potete personalizzare le vostre frittelle di melanzane come volete, con peperoncino, con il curry, oppure potete utilizzare il pecorino o più parmigiano grattugiato. Date largo spazio alla vostra fantasia. Io vi consiglio questa ricetta, provatela e poi fate un po' voi. Se volete, poi potete personalizzarla. Che dirvi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi, perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. E tantissime altre videoricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella, così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete, potete seguirmi su Facebook o su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Ragazzi, mi raccomando, provate queste piccole delizie. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia, alla prossima! Grazie a tutti!